Napoli-Bologna termina con un 3-0 per il Napoli. Il Napoli riesce a compiere l'impresa, fa un trist di gol davvero molto belli da vedere e da osservare e vince contro il Bologna. Il Bologna non fa neanche un gol, neanche uno riesce ad entrare dentro la porta a Belsaria. Per il Napoli a segnare è stato Fabiano Ruiz al diciottesimo del primo tempo e poi Lorenzo Insigne ne fa ben due e entrambi i gol sono su rigore. Il primo al quarantunesimo su rigore, il secondo al sessantaduesimo sempre su rigore. Il trist di gol piace e non poco, convince, lascia piena soddisfazione nei confronti del Napoli che in camera ottiene una vittoria sicuramente meritata, secondo la mia opinione, a danno di un Bologna che, spompo e fiacco a mio avviso, non riesce a vincere e non riesce a fare il miracolo. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate e un caro saluto da voi.